buongiorno a tutti e buona domenica anno scorso giuttoli è arrivato alla juventus il primo di luglio ed era un po un pesce fuor d'acqua non voleva allegri ma ha dovuto tenere voleva fare mercato ma non c'erano i soldi si hanno squalificato insomma diciamo che ha fatto il turista però un turista che ha osservato ha studiato e ha imparato o meglio non aveva bisogno di imparare ma ha imparato il mondo juve e quest'anno il buongiuntoli anche di sabato e anche di domenica non si ferma quest'anno giuntoli le vacanze non le può fare ma mi sembra anche giusto perché perché deve ricostruire la juventus bene avete visto che nella copertina di oggi ho messo tre giocatori e che non sono ancora ufficialmente della juventus perché va detto non sono ancora ufficialmente di juventus ma da più parti da voci tra l'altro una mi è arrivata a titolo personale sapete che quando mi arriva una voce titolo personale io mi espongo pare che il centrocampo della juventus dell'anno prossimo sarà tutto nuovo perché fagioli è come se fosse un nuovo acquisto perché l'anno scorso purtroppo non lo abbiamo avuto per i motivi che tutti quanti noi conosciamo ma il trio tutto nuovo tutto nuovo di zecca che in teoria ci dovrebbe far sognare sarà composto dovrebbe essere composto perché nel calcio mercato bisogna sempre usare il condizionale da douglas lewis da tern coq manners e da keffrein turam ebbene sì perché il buon rabiot finalmente lo dico con grande sincerità perché non mi è dispiaciuto ma l'ho anche mal sopportato tante volte si leva dalle palle lui insiste con la con la percentuale alta per la mamma la mamma per mantenerlo alla juventus dove lui ha giocato in queste ultime cinque stagioni vuole una commissione piuttosto alta si parla dai 3 ai 5 milioni ora voi capite che un giocatore che non ha mai fatto la differenza di fatto perché ha dato una mano sì ma la differenza non l'ha mai fatta ha mai fatto la differenza come sui tempi fece pogba no ha mai fatto la differenza come sui tempi fece vidal no ha mai fatto la differenza come sui tempi fece pirlo no ha mai fatto la differenza come ha fatto anche seppur minore marchisio no ha fatto mai la differenza come sosa come Deschamps, come Tardelli, come Devis, no, nella Juventus abbiamo bisogno di un centrocampo che faccia la differenza, per cui Rabiot se ne vada pure, ne ho parlato anche nel Good Morning Juventus recente, no, quello di questa mattina, se ne vada pur via, se ne vada pur via, vada dove vuole, vada al Milan, vada all'Inter, vada al Bayern di Monaco, vada al Napoli, vada dove cacchio gli pare, perché la Juventus, visto che ha voltato pagina, a mio modo di vedere, con tutti i rischi annessi e connessi, è giusto che provi un'altra strada. Io sono convinto che un centrocampo di gente potente fisicamente e tecnicamente di livello, come appunto Kefren Turam, Douglas Lewis e Theon Kopp Maners, se non è un buon centrocampo questo, non vedo quale possa essere un buon centrocampo. Poi è chiaro che c'è la risposta del campo e l'esame del campo, vederli con una maglia più pesante di quella che indossano, perché la maglia della Juve è più pesante dell'Atalanta di Con Maners, è più pesante dell'inizio di Turam ed è più pesante anche di quella della Stoneville di Douglas Lewis. Però Douglas Lewis è un nazionale brasiliano, il capitano del nazionale brasiliano non è l'ultimo arrivato, ne parlano tutti in maniera stupenda. Turam dicono che non è un fan prodige, se poi è bravo come il fratello, nonostante il ruolo diverso io sono molto felice. E Kopp Maners, se non è un'illusione di massa alla Houdini o alla David Copperfield, è un grande giocatore di centrocampo, olandese, che sa inserirsi negli spazi, che ha il tiro da fuori e a noi sono anni luce che non abbiamo giocatori che fanno gol da fuori e soprattutto che ha una buona tecnica. Per cui insomma, questo centrocampo con l'aggiunta di fagioli ci potrebbe permettere di avere un Locatelli in stile Marchisio. Mi spiego meglio. Locatelli utilizzato nel suo ruolo principale che è Mezzala, dove la sua partita modesta la fa. E quando devi giocare contro squadre minori come il Venezia, come il Como, come il Verona, queste squadre qua, il Lecce, penso che il suo Locatelli lo può fare. Ovvio che si spera di avere questo trio o magari con fagioli quando giochi con Milan, Inter, Lazio, Napoli, Roma e soprattutto in Champions League e magari nel mondiale per club. Fatto sta insomma che il calcio mercato sta per entrare nel vivo. Siamo verso la fine di giugno, dal primo di luglio si potranno depositare i contratti, lo dico perché molti dicono ma questo Douglas Lewis quando cacchio lo annunciano, Douglas Lewis può fare le visite mediche, dovrebbe farle in settimana proprio, si parla di martedì o mercoledì quando non gioca al Brasile, in una pausa della preparazione alla partita del Brasile, che è impegnato in Coppa America e dovrebbe fare le visite mediche. Poi ci dovrebbe essere il deposito delle firme e già dal primo di luglio ogni giorno è buono per l'annuncio ufficiale. Per quello che riguarda Kopp Manners e Turam, Turam è legato alla decisione definitiva della Juventus nei confronti di Rabiot e viceversa perché Rabiot se continua a prendere tempo, la Juve gli dice vattene pure, non ti rinnoviamo il contratto perché è chiaro che se la Juventus non gli rinnova il contratto lui può dire voglio restare, ma se la Juve gli dice no non ci interessi più, lui il 30 giugno non è più un giocatore della Juventus. Sia chiaro, dal primo di luglio Rabiot se non succede qualcosa non è più un giocatore della Juventus. E poi c'è tutto, come ho detto anche in un calcio mercato news della settimana scorsa, un all-in su Tenko Kopp Manners. Dopo, una volta che hai rifatto il centrocampo, ma non rifatto rispetto a quest'anno, rifatto rispetto agli ultimi 5-6 anni e finalmente si spera di avere un centrocampo nuovo di pacca che possa creare un ciclo, allora dopo ci si può dedicare a Chiesa, ci si può dedicare a Di Lorenzo, ci si può dedicare a Sancio, ci si può dedicare a tutti quelli che voi volete. Ma ripeto, secondo me l'urgenza, e non da quest'anno, ma dagli ultimi anni per la Juve è il centrocampo. Dopodiché tutti i Santi aiutano, perché nessuno ci obbliga a vendere Chiesa, noi nessuno ci obbliga a vendere Milic, abbiamo Illiz, abbiamo Vlaovic e l'attacco siamo messi bene. In Milan manco quelli ha, no? In Milan manco quelli ha e l'Inter ne ha solo due. Lautaro e Taremi, sì, ma poi Taremi voglio vederlo in Italia, e Toram. E poi in difesa abbiamo Jalò, abbiamo Rogani, abbiamo Danilo, abbiamo Bremer, cioè abbiamo Gatti. Io tutta questa urgenza di andare a prendere Calafiori, che poi non è un centrale difensivo, come ho già detto, non ce la vedo. Per cui, signori, sono molto felici di darvi questa notizia. Io sono incuriositissimo da Kefren Turam, perché ne parlano tutti troppo bene. È giovane e secondo me potrebbe essere il crack che tutti si aspettano un grande Douglas Lewis, tutti si aspettano un grande Tom Kopp Manners, magari invece il grande crack, il grande acquisto all'aggiuntoli è proprio Turam. Oltretutto papà Lilliam sarà ben felice, perché avere un figlio che gioca nell'Inter, secondo me, un po' gli erode, perché lui è un cuore juventino, per cui speriamo bene. Io vi auguro una buona domenica e come sempre, se vi va quando vi va, ci vediamo domani mattina con Good Morning Juventus. Ciao!